La valutazione del rischio delle attività svolte negli spazi confinati è un obbligo a carico del datore di lavoro. Ma qual è la definizione di spazio confinato? Quali criteri adottare per classificare gli spazi confinati? Come effettuare la valutazione dei rischi presenti negli spazi confinati? Il corso, valido per l'aggiornamento formativo degli RSPP e ASPP, risponde a queste domande, illustrando una precisa metodologia di valutazione dei rischi nelle attività in spazi confinati, che si concretizza in un documento denominato DAXI. Per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati, tutto il materiale didattico utilizzato durante il corso viene messo a disposizione dei partecipanti anche in formato stampabile. Al termine del corso, dopo il superamento del test finale, ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. Buona formazione! Grazie a tutti!